Il mondo visto con gli occhi dei carnefici siciliani dell'Ottocento, questo è lo straordinario spaccato storico-sociale-culturale che Salvatore Mugno offre ai lettori nel suo ultimo lavoro. Una prospettiva totalmente inedita sia nella stereografia che nell'aneddotica sulla Sicilia. È un lavoro che analizza i meccanismi di funzionamento della giustizia, quindi lo scopo è sempre questo. E quindi vedere un po' come funziona la giustizia dall'interno, quindi quali sono le problematiche nell'Ottocento, si intende, in Sicilia. E quindi si vedono molti aspetti, le difficoltà, i limiti di quella che era la giustizia in Sicilia appena 150 anni fa, quindi non è un periodo così lontano. Un'analisi precisa e attenta che si rivolge a tutto ciò che caratterizzava la vita di coloro che per lavoro eseguivano le condanne a morte, dall'identità dei boi alle modalità di reclutamento, dal tenere di vita alle normative che regolavano la loro attività. Sì, è un mio percorso che ormai dura da 6-7 anni di analisi e di studio, di approfondimento a livello di archivio, perché si tratta di materiali totalmente inediti. Queste cose non le trovate in nessuna storia della Sicilia. Ed è un approfondimento che riguarda tutto l'Ottocento e quindi tante tematiche delle quali spero di occuparmi ancora. E all'interno di questi testi, che hanno sia carattere storico, saggistico, ma anche narrativo, si trovano tanti aspetti della vita della Sicilia. Quindi anche il costume, vengono descritte per esempio le abitazioni, vengono raccontate le tipologie di omicidi, il modo di vivere, le attività di queste persone, che tipo di processi si svolgevano, come si svolgevano, come funzionavano, se funzionavano o meno. Quindi c'è tutto uno spaccato della Sicilia all'interno di queste storie e di questi libri. Grazie a tutti.